Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare dell'avvertenza FIMER, l'azienda di Terra Nuova Bracciolini. I lavoratori torneranno lunedì al lavoro con la promessa del pagamento degli stipendi entro il 5 luglio. Questo quanto deciso al termine dell'assemblea dei lavoratori che si è svolta ieri sera nell'azienda alla presenza anche di un membro della CDA, Luca Bertazzini. Stop all'occupazione della fabbrica di Terra Nuova Bracciolini nella retina della FIMER, le maestranze torneranno dunque a lavorare. Lo comunicano i sindacati FIM, CISL, FIOM, CGL, WILM e tutte le RSU. In seguito ad un'assemblea che si è tenuta ieri sera dopo la decisione del Tribunale di Milano di concedere all'azienda altri 60 giorni. È stato deciso, si legge in una nota, di mettere a disposizione la mano d'opera tenuto conto del pronunciamento del Tribunale di Milano e viste delle rassicurazioni ricevute dal CDA su due punti, il pagamento dello stipendio di giugno e il fatto che la continuità lavorativa sia indispensabile a creare le condizioni per stipulare un accordo nel breve periodo con un investitore. Nelle prossime ore, fanno sapere sempre i sindacati, è previsto un nuovo incontro con il CDA. Rimane inteso, conclude la nota, che visti i pregressi, un nuovo cambio di scenario, un ulteriore slittamento dei tempi, l'ingresso di un investitore senza una netta discontinuità o l'inadempienza degli impegni presi comporterà la ripresa immediata delle iniziative di lotta. Ancora cronaca, lo scorso fine settimana una violenta lite era scoppiata in un circolo in via Calamandrei, adesso arriva la stretta del questore di Arezzo che ha sospeso l'attività per due settimane. Era stato teatro di una violenta rissa scoppiata per futili motivi nella notte tra sabato e domenica. Stamani il questore di Arezzo ha sospeso per 15 giorni la licenza ad un circolo in via Calamandrei che vendeva anche cibo e bevande. Il provvedimento di chiusura è stato adottato proprio a seguito dei fatti dello scorso fine settimana nei quali quattro persone erano rimaste ferite, un 24enne anche in modo grave con un'arma da taglio. Tutti e quattro erano stati medicati e refertati al pronto soccorso dell'ospedale San Donato dove il 24enne era andato in escandescenze aggredendo verbalmente e sputando addosso agli operatori sanitari. Sul luogo della rissa gli agenti avevano anche sequestrato un coltello ed un cacciavite. Non si tratterebbe però di un episodio isolato. Sarebbero numerosi gli interventi degli agenti della polizia nell'aria adiacente al locale da qui la chiusura a garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico. L'obiettivo è infatti produrre un effetto dissuasivo nei confronti di soggetti con precedenti penali a carico che comunque non sono nuovi a episodi del genere. Una lettera di Giorgio Vasari datata 18 marzo 1566 e trafugata nella 2001 dall'archivio della Fraternita dei Laici è stata restituita oggi dalla comandante nucleo Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Firenze alla stessa Fraternita. Il valore della missiva inviata da Vasari e rettori della Fraternita per parlare dell'artista Giovanni Stradaro è stimato attorno a 20.000 euro. L'opera è stata recuperata a Londra e questa mattina la cerimonia di consegna alle gallerie degli uffizi a Firenze. Parliamo adesso di maltempo che torna dopo giornate di caldo e sole in tutta la Toscana. La sala operativa della protezione civile ha emesso un'allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico. Massima allerta dunque alle violente perturbazioni in tutto il territorio nella giornata di venerdì alle 8 di sabato 1 luglio. Considerata la vicinanza della scuola comunale Acropoli in via Beato Angelico, vicinanza al torrente Castro, nonché la posizione più bassa rispetto all'argine, il sindaco di Arezzo, in vista dell'allerta a meteo, ha firmato un'ordinanza urgente che prevede la chiusura dell'intero plesso per la giornata di domani. E adesso cambiamo argomento e ci spostiamo in Valdarno, dove questa mattina hanno preso avvio i lavori alla pronto soccorso dell'ospedale della Gruccia. Fin dal prima del Covid avevamo ovviamente avvertito la necessità che ci fossero spazi più adeguati non per avere più pazienti, ma per far sap meglio i pazienti che giungono in pronto soccorso. Erano attesi ormai da anni e questa mattina finalmente l'apertura della cantiere e dei lavori di riqualificazione e ampliamento della pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Gruccia, un intervento che sarà realizzato in due fasi. Un presidio importante che garantisce assistenza sanitaria, non solo alla zona del Valdarno dell'Aso Toscana Sud-Est, ma anche copre buona parte del Valdarno Fiorentino. Sono infatti circa 53 mila gli accessi l'anno al pronto soccorso dell'ospedale valdarnese per il cui ampliamento sono previsti investimenti per circa 2 milioni di euro. Ovviamente le strutture sanitarie necessitano anche sulla base della mutazione dei bisogni di salute, sulla base della crescita, ad esempio, del numero di accessi di spazi più adeguati e quando questo succede bisogna intervenire, soprattutto quando si parla di pronto soccorso. La prima fase dei lavori, salvo imprevisti, terminerà entro il prossimo gennaio. La nuova struttura sarà operativa nei primi mesi di primavera 2024, quindi il secondo step. Verranno costruite delle nuove sale visita, oltre tutte le spazie e soprattutto verrà fatta una separazione per i percorsi per Covid. Nella seconda fase invece verrà ristrutturata la parte ad alta complessità e quindi anche in quel caso lì proprio per arrivare a questo tipo di risultato. Non ci saranno variazioni di sorta per gli utenti se non la modifica della viabilità esterna per accedere ai locali. Quello che preghiamo l'utenza è di avere un po' di pazienza perché senz'altro ci saranno dei disagi e di non parcheggiare assolutamente lungo la strada proprio perché se no non c'è spazio sufficiente per il passaggio delle ambulanze. Nell'Asla Toscana a sud-est è nata la prima medicina legale clinica ospedaliera del sistema sanitario nazionale. Una connessione diretta tra ospedale e operatori sanitari, utenti e medicina legale finora attivo solo negli ospedali universitari. L'obiettivo del nuovo servizio avviato al San Donato è dunque quello di fornire consulenza e di informazione ad operatori e utenti su questioni di interesse medico legale. L'attività di consulenza si svolgerà presso il reparto di degenza, nelle stanze dedicate all'interno dell'ospedale oppure attraverso la teleconsulenza. Parliamo di politica, oggi infatti è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di Arezzo che si è aperto ricordando Silvio Berlusconi con un minuto di silenzio introdotto da un messaggio di Jacopo Apa. Un minuto di silenzio poi invece promosso da Michele Menchietti per ricordare a Dina Perzano nota guida turistica della città recentemente scomparsa. Tra le pratiche approvate, quella illustrata dall'assessore Francesca Luccherini relativa a due nuove piste ciclabili finanziate con fondi PNRR. La prima è un tratto di collegamento tra il centro Obi e via Bologna mentre la seconda unirà la frazione di Ceciliano alla rotatoria che incrocia la strada provinciale Sette Ponti e la tangenziale Urbana. variante al piano operativo che ingloba anche il progetto redatto dal Consorzio 2 Alto Valdarno che consiste nel ripristino di un tratto delle sponde della sezione idraulica del torrente Sellina in località San Marco fino ad un chilometro oltre via Chiarini. Il Consiglio Comunale ha poi dato avvio anche alla costituzione dell'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Arezzo il cui asset di partenza conta innanzitutto sul Comune, la fondazione Arezzo Comunità con due fornitori esterni, AISA Impianti e Gestione Ambientale. Ed in Consiglio Comunale con due interrogazioni è arrivato anche il tema degli odori molesti. Vediamo. Da oltre dieci mesi sono in corso controlli in regime di autotutela secondo i protocolli previsti dalle migliori tecniche disponibili, così AISA Impianti che gestisce l'impianto di smaltimento rifiuti di San Zeno in un lungo comunicato stampa di risposta alle proteste dei cittadini che risiedono in alcune frazioni del Comune di Arezzo e lamentano da oltre un anno odori molesti, soprattutto d'estate. Si sta riprendendo il problema in maniera piuttosto violenta. Queste notti tra le 3 e le 4 siamo state svegliate dall'odore perché ovviamente è arrivato il caldo, si dorme a finestra aperta e l'odore ti sveglia. Come già detto, prosegue la nota, verranno ulteriormente potenziati i biofiltri per investimenti complessivi di circa 1,2 milioni di euro. Sono state verificate le segnalazioni e sono emerse numerose incongruenze per la tipologia di odore riscontrato, per il luogo a chilometri di distanza e per i venti che spesso soffiavano in direzioni opposte. Possiamo serenamente affermare, prosegue la nota, che l'insieme delle segnalazioni e dei riscontri è a dir poco caotico e paiono più che altro una sorta di catena di Sant'Antonio di carattere multimediale. AISA prosegue e ipotizza che il problema possa avere altre cause rispetto all'impianto di San benzeno, ovvero l'abitudine di alcuni scellerati di bruciare anche di sera e nora tarda sfalci, potature o addirittura plastica. Poi parla chiaramente di minacce. Tutti i dipendenti, si legge, sono da tempo continuo bersaglio di offese e minacce spesso associate a immagini violente con armi, arti marziali e animali aggressivi. Per difendere l'incolumità dei nostri dipendenti abbiamo dovuto istituire un costoso servizio di vigilanza. Un continuo stalking, dice AISA, che va avanti da mesi. Da ultimo chiude la nota. Si ricorda che l'impianto è presente dal 1999, quindi prima di molte realtà abitative e industriali insediatosi successivamente. Oggi a Civitella in Valdichiana si ricorda la strage nazista, 79 anni di distanza da quella 29 giugno 1944, quando persero la vita 244 civili. Era il 29 giugno 1944, quando le truppe naziste perpetrarono un brutale eccidio nelle località di Civitella in Valdichiana, Corni e San Pancrazio di Bucine, una delle pagine più nere della storia contemporanea della provincia di Arezzo. Una brutale strage ricordata come l'eccidio di Civitella che si concluse con la morte di 244 civili. A distanza di 79 anni le celebrazioni a Civitella che erano iniziate con l'annuale Marcia della Pace lo scorso maggio. Ricordiamo quello che è stato uno degli eccidi più tremendi, eccidio nazifascista della provincia di Arezzo. Quindi è importante in questi momenti ricordare, è importante ricordare la storia, ricordare quella che è stata la memoria dei nostri martiri e allo stesso tempo proiettarsi verso il futuro per da qui lanciare quegli ideali di libertà, di pace che anche oggi ne abbiamo bisogno. Allo stesso tempo dobbiamo ricordare anche tutte quelle persone che hanno combattuto nel 44 per darci quella che è la libertà, per darci quella libertà, quella democrazia che oggi sono il fondamento dell'Unione Europea e del nostro Paese. Da qui escono fuori dei valori che sono quelli su cui si basa il coesistere civile fra la gente, fra i popoli e la guerra fra Ucraina e Russia ce lo ricorda tutti i giorni, ci ricorda tutti i giorni che non possiamo cullarci su quello che abbiamo. La libertà e la democrazia è una cosa che va difesa tutti i giorni e molto spesso l'uomo lo dà per scontato, ma non è così. Tra le vittime della strage anche Don Alcide Lazzari che offrì la sua vita a nome di tutta la comunità, per lui prosegue il processo di beatificazione e canonizzazione. Direi che molte cose sono diventate chiare, quello che si diceva a furor di popolo è risultato anche agli atti, cioè Don Alcide è santo per aver dato la sua vita per il popolo, per salvare la gente. La memoria infine in Toscana passa anche dalla rete dei comuni Teatro di stragi e decidi nazifasciste. Cerchiamo di metterli insieme a questi comuni in modo che possano far sentire più alta la loro voce. Abbiamo fatto pubblicazioni, abbiamo cercato di creare questa rete perché vi possa essere durante l'anno sempre la costanza dell'informazione e della memoria di quello che avvenne. In Toscana sono morte 4.500 persone civili e incolpevoli, un po' come a Civitella, le donne, i bambini, gli anziani che venivano colpiti perché non potevano difendersi. Questo fecero i nazifascisti e bene ce le ricordiamo. 33 anni fa invece ad Arezzo chiudeva l'ospedale psichiatrico una ricorrenza celebrata con tante iniziative al Parco del Colle del Pionta. Una passeggiata narrante tra le voci dei tetti rossi, quelli del manicomio di Arezzo. Era infatti il 29 giugno 1990 quando l'ospedale psichiatrico chiuse le sue porte a 33 anni di distanza, un percorso all'interno di quei luoghi nello stile chile della balanza che da oltre 20 anni propone la passeggiata notturna tra i padiglioni dismessi di San Salvi, l'ex manicomio fiorentino. Pensiamo che con questa passeggiata coinvolgendo i ragazzi che abitano normalmente questo luogo e quindi parlando anche delle loro istanze e coniugandole con quello che è avvenuto qui, quindi è un percorso che lega memoria e attualità. La passeggiata rientra nelle iniziative di Viva il Pionta, nato con l'intento di valorizzare il Parco e i suoi numerosi progetti di rigenerazione urbana, organizzate dal Comitato per la Rinascita del Pionta a cui ha collaborato anche il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena, sede di Arezzo. È importante cercare di ritessere un filo di comunicazione con i cittadini perché questo è un parco molto popolato da studenti, dalla comunità universitaria, dai docenti, ma noi abbiamo bisogno di tutti i cittadini, abbiamo bisogno degli adulti, abbiamo bisogno degli anziani, dei bambini. Questo è un parco meraviglioso, è uno dei parchi più grandi della Toscana, è un parco storico che ha delle ricchezze culturali e anche ambientali molto preziose ed è da qui quindi la volontà di agire da attrattori. Tra le iniziative anche la realizzazione di un murales dipinto dall'artista Rame 13 nella facciata della Biblioteca Umanistica dell'Ateneo. Rappresenta il futuro, le nuove generazioni, dedicato alla scienza, alla conoscenza, alla memoria perché questo posto era un ex manicomio, alla natura e alle nuove generazioni, quindi diciamo è una spinta per cercare attraverso il sapere di creare un futuro migliore. Torna la notte bianca degli acquisti nel centro storico Aretino Shopping sotto le stelle giovedì 6 luglio, il primo giorno dei saldi estivi. Si tratta della quattordicesima edizione che animerà le strade e le piazze fino a mezzanotte con aperitivi, musica, balli di gruppo e tante attività all'aria aperta. Quest'anno, spiega il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze Siena, Katu Yusha Fei, c'è stata la volontà a livello regionale di non anticipare troppo la partenza degli sconti che sarebbero caduti sabato 1 luglio. Partenza dunque infrasettimanale che non cambia il format, ovvero unire lo shopping all'intrattenimento. C'è un accauto ottimismo, conclude su quelle che potranno essere le vendite nei primi giorni di ribassi fiduciosi che Shopping sotto le stelle possa contribuire a portare gente in centro a fare l'acquisto giusto nel negozio del cuore. Domani invece alle 17.30 al teatro Pietro Arettino arriva il generale Mario Mori per parlare della sua memoria dopo la recente assoluzione in Cassazione da ogni accusa per la presunta trattativa statomani. Il generale Mario Mori è uno dei protagonisti della storia italiana di questi ultimi 30 anni perché la storia della lotta alla mafia si intreccia indissolubilmente con la storia nazionale, politica, sociale del paese intero. Il generale Mario Mori dopo circa 20 anni di processi è stato assolto da tutte le accuse, tra queste anche la presunta trattativa statomafia. Proprio a seguito della recente assoluzione in Cassazione ha pubblicato la sua memoria della quale parlerà a D'Arezzo nell'incontro organizzato dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con la Fondazione Guido D'Arezzo in programma venerdì 30 giugno alle 17.30 al teatro Pietro Arettino. Noi abbiamo letto il suo memoriale in esclusiva per il Sussidiario.net e da lì partiremo nell'intervistarlo. Sarà presente anche un giornalista come Matteo Giusti che porrà domande al generale Mori. In questo memoriale Mori racconta anzitutto la sua vita professionale e quindi la sequela di processi cui lui è stato sottoposto e che hanno messo a repentaglio la sua integrità e l'onore personali e da cui è uscito non solamente indenne, ma è uscito con due sentenze che lo riconoscono pienamente innocente. In questi memoriali dunque il generale Mori non solo racconta la sua vita personale e spiega e argomenta la sua innocenza, ma getta anche degli squarci di luce interessanti in certi momenti anche inquietanti proprio sulle vicende che lo hanno caratterizzato. Stasera alla Passioni Festival invece arriva Sabina Guzzanti per presentare il nuovo romanzo Anonymous Vecchi e rivoluzionari contro giovani robot mentre alle 21.30 a salire sul palco sarà l'attrice Eva Martucci con la parola Faeguali, uno spettacolo a tre voci femminili sulla vita di donna Lorenzo Milani. Ieri sera invece la serata di apertura è stata dedicata a Calvino con Paolo Endel sul palco. Cosimo sale sull'Elce, il leccio eh, il leccio è l'Elce, ma Elce è più aristocratico e dagli alberi non scenderà più. Passando di ramo in ramo e d'albero in albero Cosimo finalmente diventa adulto. Un divertente e magico viaggio tra le parole e il pensiero di Italo Calvino accompagnati dalla simpatia del comico attore e commediografo Fiorentino è stata la serata di Paolo Endel al Passioni Festival che ha portato sul palco dell'Arena Eden lo spettacolo Viola e il Barone. Un reading sui testi di Calvino accompagnato da due musicisti Renato Cantini alla tromba e Michele Saino al contrabbasso. Io, come capita a tutti, per fortuna, ho letto Italo Calvino a scuola ma a scuola sarà che ero troppo giovane mi piacque ma lo lasciai un po' lì rileggendolo dopo da uomo di una certa età invece l'ho trovato meravigliosamente divertente profondo, pieno di poesia, di leggerezza insieme anche di profondità e ho detto ma queste sono pagine che lette in pubblico fanno godere di certo. Era un'estate tutta lune piene gracchi di rane, fischi di fringuelli il barone pareva in preda a una irrequietudine da uncello saltava di ramo in ramo ficcanaso ombroso, inconcludente Autore eclettico, mai banale Paolo Endel ha esordito come cabarettista negli anni Ottanta prima di muovere i primi passi nel cinema dove ha lavorato con i più importanti regissi italiani indimenticabile nel ruolo del meccanico nel film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni Te Giugno invece e tu ti tingi un po' troppo capelli, sai? Quello di Pieraccioni è stato, inutile dirlo è stato uno dei più bei film suoi e per me e per tutti quelli che erano lì con me è stato un godimento perché si rideva, ci si divertiva si improvvisava ecco, questa per esempio Te Giugno e tu ti tingi un po' troppo capelli mi venne in mente lì perché c'era questo calendario con la dondina nuda che aveva due sfumature di colori diversi diciamo così tutte le altre battute sono di Leonardo Pieraccioni Questa perra stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci Grazie a tutti Grazie.